Siamo qui a Misano per il Track Race 2024, DAF è ancora presente quest'anno, ci tiene particolarmente a essere presenti in questo appuntamento importante per questa regione e anche per la nostra attività. Quest'anno abbiamo portato due veicoli in prova, sono due Efficiency Champions, come potete vedere, sono due veicoli della New Generation DAF che abbiamo presentato due anni fa e che portiamo in questa nuova linea all'insegna dell'efficienza e del risparmio non solo di carburante ma anche delle emissioni di CO2, quindi veicoli altamente ecologici e soprattutto anche a termine e per consolidare tutto questo, veicoli che sono compatibili al 100% con HVO. Ho guidato benissimo, una tecnologia spettacolare. Devo dire che è molto confortevole, spazioso soprattutto e per la novità delle telecamere ci si adatta veramente bene in un attimo. La macchina con tutti i suoi comfort, comoda, bellissima, molto versatile, da pensarci per un acquisto. È stata una bellissima esperienza, il tecnico molto professionale, mi ha dato tante spiegazioni in merito e mi sono divertito tanto.